Le attività di controllo nei quartieri difficili di Pescara, in particolare Rancitelli, non sono iniziate ieri e non finiranno domani, arriva a dirlo il questore di Pescara, Francesco Misiti. Questo per sottolineare il fatto che ad attirare le attenzioni delle forze dell'ordine su quelle zone della città non è stato solo il deprecabile episodio di aggressione ad una troupe di Rai 2. Basti ricordare, ad esempio, che nel 2018 sono stati 180 controlli, praticamente uno ogni 48 ore. Tuttavia si è reso necessario dare un'ulteriore accelerata anche alla luce delle nuove disposizioni del Decreto di Sicurezza di Salvini e questo ha portato a una serie di risultati importanti. In 5 distinte operazioni di controllo, dal 16 al 27 febbraio, dalla Polizia di Stato, sono state arrestate 4 persone, 14 denunciati, 11 perquisizioni locali, sequestrati oltre 85 grammi di hashish, 550 di roina e oltre 140 di cocaina, 450 le persone controllate, 119 veicoli, di cui 6 sequestrati, sgomberato un immobile e riscontrati ben 5 lacci abusivi per la fornitura elettrica, tra questi un circolo privato con conseguente provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di 90 giorni. Un bilancio importante dunque che va di pari passo anche con l'attività da sempre sollecitata anche dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, di sgombero degli abusivi. E qui c'è un dato per certi aspetti inquietante, è emerso in una recente riunione del Comitato per la Sicurezza e l'ordine pubblico. Un lato è l'Ater con i suoi appartamenti, dall'altro è il Comune con i suoi appartamenti. Non sono stati mai censiti, non sono stati mai censiti e quindi ad oggi noi abbiamo anche delle difficoltà di individuare chi realmente abita quegli appartamenti occupati abusivamente. Quindi da lì la decisione di intraprendere un'attività di censimento forte, da lì la decisione di operare nel più breve tempo possibile e regolarci poi con gli sgomberi mano a mano che arrivano i provvedimenti. Dico questo perché? Perché al momento noi gli sgomberi che noi facciamo sono quelli che derivano dai provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria a seguito di denuncia presentata in lotempore. Quindi stiamo sgomberando sì, ma ancora c'è tanto lavoro da fare. Parliamo di quartieri con un certo degrado sociale, parliamo di quartieri con dispersione scolastica, parliamo di quartieri che abbandonano anche le parrocchie e lì mi sento di essere sodale con il parroco della zona che lamenta questa situazione. Però a tutto questo non dimentichiamoci che c'è già anche gente per bene che vive in quei quartieri, che lavora e che si muove in quei quartieri. Detto questo, va da sé che il fatto deprecabile che è successo con la truppe del RAI 2 ha un attimino ingiso, amplificato, ha fatto puntare i riflettori su Pescara. Però non è stata questa la molla scatenante che ha determinato queste operazioni massive da parte delle forze di polizia. Perché le operazioni sulla zona ci sono sempre state e io ricordo sempre che nel 2018 sono stati fatti 170 controlli solo su Rancitelli. Ovviamente Pescara non è solo Rancitelli.